dai ragazzi che ce li abbiamo tutti e quattro allora ragazzi vi sentite compatti e intelligenti compatti e intelligenti come il nuovo sony ericsson x10 mini navega tramite l'interfaccia intuitiva sui quattro angoli tutto ciò che volete sempre a portata di mano si vedono un attimo adesso me lo ridate però adesso me lo ridate se no io vado dal mister e gli dico quelli che avete fatto ieri sera dicevo è la funzione timescape sul nuovo x10 mini raggruppa tutte le comunicazioni in un unico posto e dall'android market scaricate tutte le applicazioni che volete per personalizzare il telefono e renderlo esclusivamente vostro il tutto ottimizzato in uno spazio 83 x 50 x 16 mm te che hai fatto questo? teo? e te Seba? io niente te Paolo? niente perché io non ho fatto niente siete sicuri? si niente prendilo dai andiamo alla fine tieni yeah